Gli uomini della Guardia di Finanza hanno sgominato un traffico di sostanze stupefacenti, sequestrato diversi chili di marijuana e arrestato due persone insospettabili. L'operazione è stata eseguita dai militari del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova in collaborazione con le unità cinofile della Compagnia di Padova. Hanno dato esecuzione a sei perquisizioni locali e personali disposte dalla Procura della Repubblica Patavina a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta nel capoluogo a Due Carrare, Desenzano, Sirmione e Milano. Protagonista del traffico uno studente di medicina che trovato in possesso di oltre due chili e due di hashish e marijuana è stato arrestato. A Due Carrare in provincia di Padova è stata individuata un'abitazione che veniva usata per la coltivazione della canapa indiana. Le manette sono scattate anche in questo caso nei confronti dell'affittuario della casa, un altro giovane italiano. Le indagini hanno portato le fiamme gialle a eseguire perquisizioni anche a Desenzano, Sirmione e Milano, gli altri luoghi nelle disponibilità dello studente universitario arrestato. Nel corso di queste verifiche è emersa un'altra notevole quantità di droga, oltre sei chili, ma sono state trovate anche banconote in contanti per 50 mila euro. Un terzo soggetto, proprietario dell'immobile di Sirmione, è stato denunciato a piede libero per il possesso di sostanze stupefacenti. La droga, complessivamente sequestrata, circa 8 chili e mezzo tra hashish e marijuana, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato ricavi per circa 100 mila euro.